Sta succedendo che una lavoratrice della Amcor, dopo un'esperienza decennale, con un'alta professionalità, è stata improvvisamente licenziata e noi riteniamo senza giustificato motivo. La lettera che le è stata consegnata specifica semplicemente che la sua mansione è venuta meno e che non è possibile ricolocarla in un'altra mansione. Ora, noi crediamo che se in un'azienda che occupa più di 150 persone, riteniamo che sia assolutamente ingiustificata una scelta di questo tipo e che sia impossibile riteniamo che non possa essere trovata un'altra collocazione all'interno di un'azienda così grande, visto che non occupa pochi dipendenti ma veramente tanti. Quindi abbiamo organizzato questo sciopero e questo presidio perché, innanzitutto, per una questione di solidarietà nei confronti della lavoratrice che, devo segnalare, è stata rappresentante sindacale, è stata componente del comitato direttivo della nostra categoria, ma soprattutto perché non vogliamo che una scelta di questo tipo possa ripetersi a danno di altri lavoratori. Perché se la logica dell'azienda è questa, abbiamo paura che possa ripetersi e che quindi una scelta di questo tipo possa ricadere un domani su altri lavoratori.